ecco sta arrivando la vittima una giornata come le altre ha mangiato ha bevuto un quarto di vino e adesso va a dormire nella macchina un quarto di vino e adesso va a dormire si parte operazione ecco primo responsabile secondo e il terzo è stato un'altra volta che ho fatto due giri e poi un giri è fatica ad aprirsi è stato un'altra volta che non si può fare Vai, vai, vai Pinalto, Pinalto, Pinalto Pinalto, 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 Pinalto Per me io puoi farne anche un altro eh, se ne scappa anche un altro Tieni, fagli il video, c'è il video aperto adesso aspettiamo quando si sveglia non so, non so, non so, non so, non so